Essere best place to work per ETC significa coniugare due parole, autonomia e responsabilità, quindi un posto in cui poter crescere, poter avere delle responsabilità, poter decidere del proprio tempo, quando entrare, quando uscire dall'ufficio, poter decidere se portare il cane, i figli in ufficio, ma sempre nel rispetto dei colleghi, quindi con un'idea che si lavora in team e non si è soli, si lavora con gli altri, la propria libertà è più bella se gestita in collaborazione con i propri colleghi.